Musica 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 In attesa di conoscere la città di Fabriano in attesa di dare il gruppo di Sanzetti e la fotografia dei bandierai dei bellissimi di Firenze quindi con chiuno ha una tecnica diversa a sottolineare il figlio che non sbaglierà ma soprattutto il terreno nazionale che vede appunto scuole diverse partecipazioni diverse da tutti legati dallo stesso spirito presentazione della bandiera che è il simbolo che unisce le città i paesi con l'esibizione dei pubblici che unitamente di di Grazie a tutti.